Oh cari miei amici, siamo in partenza, siamo a noi salutare il nostro ducavai, anzi in quattro, du bianchi e du nigro. Come va? Andiamo bene stamattina? Eh? Si, direi che la sgagna, ciò vuol dire che aveva i nomi. La sera da dire, du bianchi e du nigro, ma ciò da chi? Di cavai, io vente. Comunque non fa niente. Ecco, con lei fonda bianca, guardavo se la Cristina vuole fare l'impomego. Allora il suo padre mi ha detto, ascolta, faccio in maniera del cavai al piste. E mi ha detto, va fuori di qua, non fatti più vedere. E lui mi ha detto, faccio in maniera del pari sud, il nostro pari sud, vabbè. E poi che è andato lì in fondo, adesso un po' qualche gira, non è mica niente, cambia colore. Allora, tutto a posto, è andato tutto bene, abbiamo fatto i quattro giorni, adesso che abbiamo ancora una giornata, adesso facciamo una scelta a siena. Ieri siamo stati in Maremma e siamo fatti in maniera il suo pari sud, però il pari sud dirà le tutte e le altre cose, vabbè. Ciao amici, salutiamo i nostri cavalli, vabbè, e se vediamo per me, e siamo su questo, sti bene.